Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Nio2 Bene, andiamo a vedere cosa possiamo mettere, qualche talento qua Se c'è qualcosa che possiamo fare Questo P18 d'attacco, io dico che ha vinto Questo qui invece cosa c'è? Devo fare ancora tante quest Mamma mia, allora vediamo un po' Corri in avanti Non mi interessa Sapete che non ho idea Devo fare la missione Devo fare una missione Devo fare tante missione Quindi non possiamo fare un caso Aumento del 3% il danno infritto da dietro Quando la trova principale è una cosa che mi interessa parecchio Aumento del 3% dall'infritto da dietro Quando la trova principale è una doppia katana Anche questo mi interessa Quando occhio della mente va a buon fine È solo la tua potenza d'attacco È solo un'impignatura bassa Quindi dovevi fare questo Per fare questo Per fare questo Per fare questo 1%, 2%, 3% Siamo a 6% Devo mettere da parte un bel po' di punti Va bene Ecco la c'è qui Due punti Vediamo un pochino Rilascio Va bene E E Dario Perfetto Direi che siamo a cavallo Possiamo andare Speriamo di non aver l'assalto indietro Tappi Kodama Speriamo bene Eh Lo sapevo Ho sentito E lui l'ha preso in pina faccia Ed è anche moruto Sono tanto felicio Quindi noi così Cosa stiamo facendo? Stiamo andando indietro Ovviamente Giusto? Allora andiamo di qua Qui c'è uno morto Ok Cerchiamo di fare le cose fatte bene Mi da ridere quando lo dico Faccio sempre di merda Oh salve Mi scusi salve Ho perso gli aiutanti Adesso non ho molto voglia di chiacchierare Però magari un tempo avanti Lo prendo lontino Ok Allora Andiamo un pochino Tac 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 Vediamo cosa si può fare Magari Eh che cazzo L'ho preso in pina faccia Adesso un altro Non so se Porca vacca Eh si Va 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 Ok Cagnato tu so Che di tuo Sei molto più potente Eh l'ho acceso subito però Ah perché avevo le ammi Era un partito all'incantamento dell'arma La corrosione La corruzione Il ragazzo si chiama No 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 I scemo una volta eh Forse anche due però Eh Miku ci sa Potrebbe venire un attico Però così guardi Non ha proprio capito un cazzo Vai Ok Oh ma lei è escluso Sa Eccoci qua Facciamo così Ma facciamo anche così È stato bravo eh Ecco Abbiamo risolto il problema Mi è salto a quel cuore Dai va bene Oh ma questa Non mi piace per un cazzo Perché loro Sono cattivi C'è un martello Lei signore E non batto un chiodo Mi sa così eh Lei Ecco adesso Cominciano a fare Le rotteamenti Che rompono Sono i marroni Eccoci qua Bravo bravo Così si fa Che brutta cosa Che bruttissima cosa Che bruttissima cosa Che è lei Eh la mi hai sputato anche Non si fa così eh Non si spute da sola gente Faccia cazzarola E a chi lo sapeva Questo Eh io Ho bisogno anche Di sapere un po' di Cazzarola Io ragazzi Ho un attimo La voglia di andarmene via Voi cosa dite Perché qui Non ricupero un cazzo Eh Ho bisogno di prendere Un aiuto Gli sputacchino anche Che mi sparano Accidenti a me Vai Ma va fa culo Va Eh Casino Ok vieni da me Vieni così almeno Ti libero Lo tuo peso Tac Ok E così siamo a posto Devo vedere Ok da dove parte Adesso Si può avere più sfiga di così Certo che si può Aspettate un attimo Poi vedrete Porca miseria C'è anche una scala Qui c'è tanta gente Comunque io Me ne andrei un attimo Non so più cosa fare Senza aiuto Mi sento un po' perso Eh Allora Per evitare Non si rompe Allora Vediamo un po' Cosa posso fare Senza Se il box Mi aiutasse Però evidentemente Non è possibile Da qua Cioè È impossibile Che io non riesco A passare lì Dai Come è fatto male Vabbè Andiamo da lui Dai proviamoci Eh Speriamo bene Dove è finito Allora Prendiamo questo Prendiamo questo Aspetti un attimo Sa signor Ok Aia Fatti c'è Dimenti a te Vai No che mi viene indietro Mi l'ho dimenticato Ok bene Eh Ci ho provato Purtroppo Mi ha fatto male Ma lei signore È scortese Sa Mi viene sempre addosso Ok Ok Vai Va bene lo stesso A posto A posto Abbiamo purificato l'area Cerchiamo di trovare Qualcosa da fare Che qui Sicuramente si farà Qualcosa di buono Bellissimo Scusate Avevo una paura Incredibile Allora da qui Forse qualcosa Riesco a fare Vediamo un po' Se Hitbox mi aiuta Col cazzo Ma risposto Mmm Non posso fare Un cazzo di niente qua Dai Non c'è ne uno Che possa prendere Che tristezza Questo qua Che è qua Che mi spara Chi è che mi spara A proposito Devo capirlo Se io mi sparasse Questo Yokai Allora ci si è fatto malo Ci si è fatto tanto malo Non è che tu mi vieni a trovare Prima o poi Non c'è proprio Molta voglia De mi vieni a trovare Questo ci può prendere Da qui E quel cazzo Mi ha risposto Che pare Hitbox Fate a cazzo Va bene dai Andiamo pure Almeno adesso E' meno gente Dai Posso preoccuparmi meno La zona Una volta purificata Non dovevo Fidarsi problemi Allora Devo solo cercare Di capire Come salire Una volta Che l'ho capita Sì sì Accidenti Anche loro Eh ragazzi Io non me lo aspettavo Che cazzo so io Che ci sono Sti stronzi qua Con i barili Esplosivi Eh non potevo Certo saperlo Vabbè Ci vediamo Appena arrivo là A dopo Che ragazzi Sono morto Pazienza Però sono tornato Più o meno Dove eravamo Quindi vediamo Cosa posso Cosa posso fare Sti cosi Sono Un problema Allora facciamo una cosa Molto velocemente Togliamo un attimo L'arco Mettiamo Il fucilo Che il fucilo Dovrebbe Fargli esplodere Esatto Così me lo mi ritengo Un attimo Dalle palle Ovviamente L'itbox È sempre schifo Che palle Quando le fanno Così di merda Ok E siamo a posto Almeno così Non dovrebbe Scusate Di torcermi contro Adesso Cerco di capire Da dove Vengano Viene da qua Però io da qua Non vedo un cazzo Di niente Che mi possa sparare E purtroppo Da qua Non posso neanche Prendere quello Però Forse Riesco Aspettate un attimo A prendere Questo qua Che mi rompe un po' Le scatole No cazzo Arriva fino a qua Ma arriva Cioè ma come fa A essere così preciso E' un bel problema Andiamo un po' Perfetto Andiamo 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 a riscondere Qua Non so a far cosa Però qualcosa farò Ah ho preso Il corso di prima Ok Aspettate Ci progare Proprio Ho capito dove sono Ed è un bruttissimo posto Perfetto Però almeno L'ho tirato via Qua si va Non si va Ok L'importante E' che siamo Al posto di prima E con le figure Di mele di oggi Eh vabbè Una cosa alla volta Devo Togliermi da questo Brutto impiccio Ok Forse qua E' brutto lo stesso Eh Per carità C'è certo che Questo è un bel imbecille Complimentoni Vai Spara No volevo prendere Lui Ok Piano piano Ce la facciamo Non facciamoci Prendere da panico Mamma mia Che cazzo di stronzo Ho fatto la doppia mossa Oh C'è 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 Certo che sono belli pompati Questi Rispetto agli altri Che abbiamo incontrato Sono molto più pompati Cosa mi vuoi dare Cazzo in faccia Si fa così Cavoli Allora vediamo Cosa c'è qui sopra Dai Ok Questa è andata Poi Vediamo cos'altro C'è più da fare Devo assolutamente capire Dove era quello là Che mi sparava da qua Cioè Si intravede Però Ovviamente L'itbox Funziona come cazzo Vuole Però forse da qui Ce la facciamo Vediamo un po' In teoria Si In teoria Si Ok Adesso gira 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 Perché Non l'ho preso Però Forse Le dico forse E che cazzarola Ok Adesso Mi ci dobbiamo più Preoccupare di lui Oddio Si l'ho dato Questo cosa Faceva Andiamo Non lo so Va bene Andiamo Oh mamma mia Che bello A parte che qui Non abbiamo ancora Finito di esplorare Siamo venuti qua C'è una scala Interessante E c'è una via Interessante Allora Piano Facciamo tutto Vi raccomando Non lasciamo niente Indietro Qui c'è uno Perfetto Dopo ci vado Allora Una cosa la volta Adesso mi perdo Chi è Oh cazzarola Porca vacca Porca vacca Porca vacca Vaca Eh Grazie eh Molto gentile Quanto proprio Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Vai Ok Questa Mossa Ci salva sempre il culo Allora Mi sono già perso Da qui dovevamo venire Ok Ricordiamoci Perché dovevo andare Eh Un'altra volta Sta strada ho fatto Devo venire qua dopo Per scendere Però la prima cosa Che devo fare È andare a vedere Da quello là Che abbiamo ucciso Se Effettivamente Che poi Era la stessa strada Eh Ok Era di qua Di qua Mi ricordo più Ragazzi Dove cazzo era Era da qua Che ci sparava Ed era là Allora Da qua Mi ha sparato Per andare Laggiù Mamma mia Quante Cazzo di strade Ci sono La sua Ok Adesso ho capito Che poi La sua Dove eravamo noi Siamo sicuri No Non sono più sicuro Ragazzi Non mi ricordo più Dove cazzo Che palle Non ricordassi mai Le cose Allora Da qua Cos'è Era quello Che arrivava lì No È questo qua È questo qua È qui che abbiamo Avanzato tutti quanto A posto A posto Mi sono confuso E l'altro Invece era Non lo so Però l'importante è così Allora andiamo un attimo Di là Scusate Mi sono proprio Incoglionito Non conosco neanche Le mappe Andiamo di qua Vediamo che succede Dopo andiamo là Perché io C'ho ancora Uno shotgun Da aprire E non so dove sia Oh Cazzo E non ho più Trovato aiuti Eh Non ho più Trovato aiuti Purtroppo Ok Troppo Ok Benissimo Questa è andata Siamo enzaccherati Ma pazienza Allora ci sono due strade Guardiamo anche su In alto Ho capito dove siamo Ho capito dove siamo Strariamente Strariamente Ho capito dove siamo Siamo venuti Già su qui Noi C'è un Kodama Salve Kodama Però è strano Perché io Non mi ricordo Di essere Salito qui Eh Boh Vabbè Eh Adesso purtroppo Mai Sono partito Lasciamo Lasciamo Le cose dove sono Comunque ho perso Un altro Kodama E questo è importante Andiamo pure avanti Scusate ma Non c'ho proprio Capito un cazzo Come al mio solito Ok Ha fatto due giri Benissimo Andiamo Scusate ma Voglio prendere tutto Bene C'è qualcos'altro Cos'è che non ho preso C'è qualcosa qua Sopra O sotto Penso più sopra Ok Di qua Meno male che abbiamo Percezioni varie Così almeno Vediamo tutto Perché se ci sono Le ciocche che ci servono No Non ci ha dato la ciocche Pazienza Che si fa niente No Ok Oddio Che bello Peccato per prima che sia morto Avevamo 90 Passamila Mi è dispiaciuto tanto Purtroppo non ho potuto farci molto Eh Sono molto tosti qui Certi che di aiuti Ce n'è stato uno all'inizio E poi Niente più Eh Allora Porca vacca Dicevo di fare in realtà con le spalle Ho fatto una caccata alle spalle Invece Quella l'ho fatta bene Ok Buonissimo Vai Perfetto Andata Adesso chi è che dobbiamo uccidere Per Toglierci dalle palle Questo Fantastico Lui da quant'è che non lo vedevamo Allora Se adesso questo qui venisse Se non è mica niente Ok Questo è andato Fatti un attico Ok Lui mi ricordo che si ammazzava Bastante facilmente Bastava Prenderlo un pochino Alle spalle Ok Andiamo di qui Così Vai Ancora niente Dopo siamo Nello regno Yokai Non lo recuperiamo Un cazzo Vai Porca troia Eh certo Mi sembra più che giusto Che figlio di troia Che sei però Eh Bisogna dirlo Che cazzo Dio dio Allora Vediamo un po' Chi è Chi è Porca di quella puttana Che due marroni Guardate Che due marroni Non devi prendere Sto cazzo Dai brutto stronzo Prendere Sto cazzo Di coso E vediamo Chi arriva Allora io adesso Faccio così Lo richiamo Tanto arriverà Lui no Dai Vieni su Così almeno Siamo fuori Del Dai C'è che faccia sfondarlo Bravo Tu sei un uomo Oh no È un demone Ok Vai Ma per Da quant'è che fa Questo doppio attacco Io non l'ho mai visto Farglielo Ecco qua Oh cazzo Ho preso lo stesso Ok E questa è andata Poi C'era quell'altro Animalo Che è questo Fantastico C'è un mortaio Anche qui Perché prima Non sparava Adesso spara Sono domande Che mi chiedo Allora Vediamo un po' Cosa vedo qua Vedo un cazzo Ovviamente Sì sì Si vede proprio bene Eh cazzo Allora Io direi Di chiamare Il tipo topo Strano Ok E farlo Venire Qua Così a meno Non mi arriva il mortaio Se no Vieni vieni che ti aspetto Insomma Adesso l'aiuto io Venire a decidersi Di venire Ok Ce la fa venire Bravo Ok Perfetto Ok Ok cazzo Non ho preso niente Non ho preso Vai Ah Fa culo Eh va a cacare Va Vai Che la spiga Sia con me Mi raccomando Che ci rimanga Spesso Perché insomma Perché cazzo E' andato E' andato Via Si è ritirato Vai Allora eh Finchè non lo ammazzo Quello Ovviamente Perfetto Vieni pure da me Ce lo prendiamo un po' Per gradi Ce la facciamo Dai Porca caccia La puttana E va a fan culo Loc di merda Ma guarda Se si può avere più Sfiga di così Dove cazzo Sono finito Oh sei qui E' lui Dai dai Non importa Non importa Cerca di farcela Vai così Eh certo Mi sembra giusto Certo che Li hanno fatti proprio Forti eh Questi qua Vai Non è ancora morto Oddio Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Che cazzo ci va qui adesso Speriamo che Abbiamo fatto un cazzo Ok Allora Ho capito che è qua che dobbiamo andare E mi sta bene Però io volevo andare di là Prima volevo finire di ammazzare la gente Così magari li vediamo E siamo tutti felici Oh un aiuto E' una merda Però meglio di niente Sicuramente è Andiamo qua Ma porca miseria Ok Salve Lei è sempre bello Salve Di volta che la vedo È sempre più bello Ok Che bello Quando siamo i due Ok Andata Ok Ti sei ripreso Bravo Andiamo su Andiamo a ammazzare Quello lì Che ci sparava Col mortaio Oh ma cazzo Un altro ancora Ma quanti Ma quanti cavolo Di yokai ci sono In questo livello Eh no Che ne arriva più un altro Questo non mi è piaciuto Ok Ok Giù si va Giù si va E sicuramente ci sarà Un codama Vero Tanto qua Non si può andare Il problema È che io volevo andare Nella grotta Prima Il problema Non dà poco Ok Perfettico C'è un tesoro Qui non è che ci può Fare qualcosa No Eccolo qui Il nostro tesoro Apri Oh pronto Bene dai Oh Quante belle cose Ragazzi Ci possiamo Anche soltare qui Così Almeno nel prossimo video Facciamo più Con calma Perché sono citato E quindi Ragazzi Come al solito Vi invito Alla cellula Ecco il commento Se vi piace la serie E farmi sapere Cosa ne pensate E adesso Abbattiamo questo Sennò questo Ci spatacca Tutto quanto Ok E quindi Vi do un saluto A Siva Ciao